Amici della Serie A Team, un saluto da Luca Gregorio, benvenuti a Spallaroma, sfida fra chi nutre speranza e salvezza e chi insegue l'obiettivo della zona Champions. Fares con le mani, Petagna verso il centro, con il petto, Murgia, percussione in area, arriva Flockeri, controllo, Flockeri! Flockeri! Come la prima volta in Serie A Team, segna ancora, è avanti la Spall!